ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo dei clisteri di fumo una bizzarra tecnica di reanimazione del diciottesimo secolo se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale di vanilla magazine il fumo quello di sigaretta o più genericamente di tabacco è oggi riconosciuto come estremamente dannoso per la salute ma fino a qualche secolo fa veniva usato anche se in modo alternativo come tecnica di reanimazione per le persone in fin di vita in particolare per le vittime da negamento alla fine del 1700 i clisteri di fumo si diffusero in tutta europa in particolare a londra dove divennero una pratica medica consueta tanto che lungo il fiume tamigi e altri importanti corsi d'acqua veniva appesa l'apparecchiatura utilizzata per la procedura tutti coloro che utilizzavano le vie navigabili erano tenuti a conoscere la posizione di queste attrezzature salvavita una sorta di defibrillatori antelitteram anche a venezia la strumentazione necessaria doveva essere distribuita nei luoghi che all'epoca funzionavano come punti di primo soccorso come chiese spezzerie e via dicendo il fumo veniva soffiato dal medico su per il retto attraverso un mantice una cannula anche se talvolta volendo arrivare direttamente ai polmoni dalla via più breve veniva insufflato attraverso il naso e la bocca la maggior parte dei medici dell'epoca riteneva comunque che la via rettale fosse la più efficace la nicotina contenuta nel tabacco era considerata un potente stimolante per il cuore capace di provocare un aumento del battito che di conseguenza avrebbe favorito la ripresa della respirazione si pensava anche che il fumo avrebbe scaldato la parte interna del corpo asciugando l'eccessiva umidità una delle prime testimonianze dell'uso di questa pratica risale al 1746 in inghilterra un uomo che abitualmente fumava tabacco con l'apposito tubo le sigarette come le conosciamo oggi furono inventate soltanto nel 1832 rianimò la moglie che apparentemente sembrava morta per annegamento con la tecnica di cui probabilmente aveva sentito parlare inserì la sua cannula da fumo nel retto della donna e soffiò per quanto possa sembrare strano oggi la cosa funzionò e la moglie si riprese da allora la tecnica prese sempre più piede tanto che divenne una procedura medica regolarmente applicata non solo in caso di annegamento anche per mal di testa tifo colera in fase terminale e per molte altre patologie l'idea di utilizzare il tabacco come medicina arrivò in europa dalle americhe dove i nativi lo utilizzavano per trattare diversi disturbi oltre che per scopi più ricreativi e durante le cerimonie religiose in tutto il sud america era e lo è ancora presso alcune tribù indigene diffusa anche la pratica dei clisteri psicoattivi per i quali si usavano polveri allucinogene il botanico e medico inglese nicolas colpeper portò in europa le tecniche curative dei nativi americani compresi clisteri di fumo per curare coliche o ernie anni dopo fu il medico richard mead a diffonderne l'uso inizialmente venivano utilizzate le troppo corte cannule usate abitualmente per fumare poi fu messo a punto uno speciale strumento che evitava a chi eseguiva il clistere di inghiottire accidentalmente il contenuto della cavità rettale del paziente i clisteri di fumo vennero praticati abitualmente fino alla metà del diciannovesimo secolo anche se già nel 1811 il medico inglese ben brody aveva messo in guardia sulla pericolosità del fumo per il sistema cardiocircolatorio nonostante la tecnica cadde in disuso durante l'ottocento pare che siano stati utilizzati anche come tecnica di rianimazione durante la terribile epidemia di influenza spagnola del 1918 l'ultimo tentativo per rianimare un paziente sul baratro